Io sono Franco Migliori, sono Italo Argentino, questo è il mio undicesimo anno in Italia, ho fatto una lunga carriera, l'anno scorso ho finito di giocare a Barcellona a posto di voto e questo anno sono stato un po' fermo prima perché ho avuto un periodo un po' buio diciamo, ma adesso sono recuperato, sto bene, mi è uscita questa opportunità qua Benafro, questa sarà la mia prima stagione in Serie B perché tutti i 20 e 10 sono stati fra Serie A1 e A2, ho avuto questa opportunità, mi è piaciuta molto la sfida che si mi è proposta, so che è un momento difficile della squadra con un obiettivo molto importante che è la salvezza e penso che adesso già Benafro ha una buona squadra, ho conosciuto i ragazzi da poco, penso che abbiamo il materiale per fare bene, adesso Marco è già un po' qua, Marco Rossi, c'è anche Mauro Livuri, siamo il nuovo arrivati, spero veramente di dare una mano grande a questa squadra, di dare la mia esperienza, il mio apporto ai ragazzi per aiutare a trovare questa salvezza. Domenica sono stato in campo, ho visto che il pubblico è un pubblico molto caldo, che sembra essere una grande famiglia qua, quindi speriamo che tutta la gente continui ad appoggiare le squadre che ne abbiamo veramente bisogno in questo momento, di più adesso che abbiamo vinto la prima partita domenica e speriamo che questo sia un nuovo inizio del campionato e vi aspetto a tutti domenica 29 per questa partita con Perugia che sarà una finale per noi.